Fedez si è fatto un bellissimo autoregalo, un tappeto sciogliente mi viene da dire. Perché sto dicendo questo? Ti lascio il video che ho pubblicato, fammi sapere la tua opinione e ci vediamo al prossimo video. È arrivato il tappeto nuovo per caso? Guardate che tappeto che si scioglie tutto, eh? Che robetta! Pazzesco, eh? Guarda, Beto! Hai un bello! Grazie a tutti!